1, 2, 3, siamo tutti unici! Molla! Tanti palloncini blu volano nel cielo di Castel di Tusa e degli altri pressi dell'Istituto Comprensivo di Tusa per la giornata mondiale sulla consapevolezza dell'autismo. L'istituto, guidato dalla dirigente scolastica Fulvia Ferlito, anche quest'anno abbraccia l'iniziativa di sensibilizzazione e lo fa con i più piccoli, attraverso momenti di riflessione e attività dedicate sul tema, svolte nella settimana appena trascorsa e culminate nella giornata di ieri. La nostra dirigente nella circolare ci ha condiviso molto materiale su cui poter cominciare a far lavorare gli alunni. Poi ovviamente ciascun complesso ha attuato delle iniziative diverse. Noi abbiamo battuto più sulla consapevolezza dei ragazzi, cioè abbiamo fatto delle iniziative per cui i ragazzi venivano bendati, legati in maniera ovviamente consona o gli è stato impedito di sentire e li abbiamo fatti muovere per la scuola in modo che oltre all'autismo e quindi alla difficoltà di relazionarsi e potersi far comprendere si potesse dare uno sguardo d'insieme a tutte le forme di disabilità e quindi si potesse ancora di più puntare sull'inclusione. Ovviamente i risultati sono sempre bellissimi perché in questi giorni i ragazzi sono molto coinvolti, sono in qualche modo tartassati dalle nostre continue sollecitazioni. Ci auguriamo che poi nel resto della loro vita e della loro esistenza possano portare in giro quelle esperienze che hanno vissuto e le idee che hanno a tal proposito maturato. Se prendi l'astronave potrai da me atterrare e forse anche capire. Anche l'amministrazione comunale di Tusa per il secondo anno sostiene attivamente l'iniziativa dell'Associazione Nazionale Parla Autismo Ollus, scegliendo di illuminare di blu due luoghi simbolo del centro della Valle dell'Alesa, la sede del municipio e la fontana di Piazza Mazzini e con una presenza concreta in tutte le scuole del centro nebroideo. Il colore blu è stato scelto dalle Nazioni Unite nel 2007 come colore rappresentativo della giornata sulla consapevolezza dell'autismo perché si dice che il blu sia un colore enigmatico e sviluppa un senso di sicurezza e stimola la consapevolezza, la sicurezza che in realtà dovremmo cercare di infondere a questi ragazzi e le loro famiglie, la sicurezza non solo dell'oggi ma anche delle domani. Ho intrapreso un percorso di studi che mi porta ovviamente a stare a contatto anche con questi ragazzi e ho finito da breve proprio un tirocinio con dei ragazzi autistici. Quindi diciamo che la tematica mi interessa particolarmente e ci sono particolarmente vicina a questa problematica. Dicevo la consapevolezza nasce però dalla conoscenza. Se noi riusciamo avere conoscenza della sindrome dell'autismo riusciamo sicuramente a non avere paura di relazionarci con gli autistici. Abbiamo illuminato di blu il nostro palazzo comunale per tutta la settimana e abbiamo sensibilizzato la scuola e gli insegnanti che a loro volta hanno sensibilizzato i ragazzi a questo tema parlandone in classe, discutendone e provando a vedere anche dal punto di vista dei ragazzi il loro grado di conoscenza che come dicevo prima è sicuramente migliore di altre generazioni che ci hanno preceduto. Consigliere Piscitello che ha voluto fortemente questa giornata. Noi nella nostra realtà ci possiamo ritenere fortunati ma per quelli che abbiamo sono loro che danno grande dimostrazione di affetto a noi e sono loro che hanno insegnato a noi come essere unici perché hanno contribuito sia per il personale adulto e quindi nel formare gli adulti a questa consapevolezza ma soprattutto a formare gli altri bambini perché nella scuola dove noi siamo e quindi con la presenza di questi bambini io mi accorgo giornalmente che sono loro che praticamente mettono in atto tutte le buone maniere per l'integrazione sociale e culturale di questi ragazzi.